Ecma 2016, MV Agusta presenta un'altra meraviglia, un altro gioiello. Sì, la Kika quest'anno è la Brutale 800RR, che è una moto che già esisteva ma che noi riproponiamo nella versione aggiornata, nelle linee, nel design. Questa non è una novità perché già l'anno scorso abbiamo ridisegnato totalmente il concept della Brutale nella versione 3 cilindri, ma la ripresentiamo al top della potenza, ovvero 140 cavalli, quindi un motore veramente preponderante. La novità, l'occasione di cui siamo veramente fieri è quella di poter dire che la piattaforma Euro 4, quindi tutto il sistema di omologazioni che ora l'Unione Europea gli chiede, non ha limitato lo sviluppo di questo nuovo motore, per cui noi abbiamo portato in realtà tutta la gamma 2017, abbiamo importato in tutta la gamma 2017 tutte le novità tecnologiche e in alcuni casi, come appunto nel caso della Brutale 800RR, non abbiamo assolutamente compromesso tutta quell'aspettativa a livello di performance che il nostro fan, il nostro rider si aspetta da noi, anche il semplice appassionato. Questo perché comunque abbiamo approfondito durante poi l'inverno scorso tutte le peculiarità, abbiamo approfondito lo sviluppo di tutte quelle criticità su tutta la piattaforma 3 cilindri che abbiamo riscontrato negli ultimi anni. L'occasione, l'omologazione Euro 4 è stata l'occasione attraverso la quale ci siamo dati da fare, il nostro dipartimento R&D si è dato da fare per risolvere le criticità da una parte e far fare un salto tecnologico dall'altra. A proposito di salti tecnologici, qui c'è un esercizio di stile straordinario, la Zagato. La Zagato si è molto di più, noi abbiamo due figliastre nate da due bellissime esperienze che si sono sviluppate quest'anno. La prima è la F4 RC, non è una figliastra, però nella versione racing con lo scarico monorum, quella di Leon Camier che corre in SBK è veramente un'esperienza in più, qualcosa di diverso, quindi una versione pazza che nella versione racing può andare solo sul circuito poi chiaramente c'è anche la versione stritta omologabile per strada, omologata per correre sulla strada. E dall'altra la sua sorellasta, cioè la Zagato. La Zagato è una one-off, quindi non esisterà mai per tutti ma esiste solo per il fortunato cliente che l'ha avuta. Ma è invece l'espressione, l'esagerazione a livello di design e in questo caso è un gioco, quindi è una rielaborazione. Un bel gioco. A mio parere bellissimo, della stessa piattaforma. Quindi il mondo F4 lo rivive e è ripresentato a EICMA in queste due forme. Una super esclusiva, chissà che poi da questa esclusività non nasca una limited edition o qualcosa di simile, considerato che quella moto lì è un'esclusiva del suo proprietario. E dall'altra invece l'esperienza del racing e può darsi che ci porteranno queste due esperienze in due strade. Una fusione. Molto estreme. No, probabilmente diverse, ma entrambe molto estreme. Uno sguardo al futuro. AMG, una parentesi del passato, oppure la partnership continua? AMG è con noi in questo momento, oggi è con noi, con lo stesso livello di partecipazione, a livello societario. E siamo qua, siamo qua insieme e ci sono tutti i presupposti per superato il momento, la criticità finanziaria che abbiamo comunque dovuto affrontare negli ultimi mesi. Ieri in una conferenza stampa riservata ai dealer c'era tanto interesse da parte di importatori del Far East dell'Asia, vuol dire che MV Acust è un prodotto che interessa non soltanto qui in Europa, ma anche in altri mercati. Assolutamente. Devo dire che dobbiamo ammettere tutti quanti che l'interesse per il Far East sta crescendo esponenzialmente. È un fenomeno virale, lo vediamo anche dal punto di vista della comunicazione pura sui social. Il potenziale virale del brand MV Acust nel Far East è incredibile e ci riserverà delle bellissime sorprese, anche perché ci permetterà di spingere molto più il brand, anche perché quello è un mercato giovane da una parte, smaliziato, molto esigente dall'altra e soprattutto al passo coi tempi, quindi non è un mercato ingenuo, è un mercato molto interessante, molto demanding in termini di esagerazione, aspettative, eccetera, quindi potrà essere una bellissima occasione. La ringrazio. Grazie a lei. Grazie a tutti.